Falchi, Poiane, Allocchi, Barbagianni, Gufi, Civette Capogrosso e Civette Nane. Sono le famiglie di rapaci ospiti dell'Ottagono della Natura, il punto di osservazione dei volatili inaugurato all'Osservatorio Ecofaunistico di Aprica. Rendezvous sabato mattina a quota 1700 metri del Palabione, dove ad accogliere la cittadinanza, le autorità e i bimbi delle elementari del posto c'erano Bernardo Pedroni, con gufo reale al polso, e la moglie Luisa Meregalli, con falchetto sacro. Al taglio del nastro Massimo Sertori, assessore regionale alla montagna, Franco Angelini, assessore provinciale al turismo, Dario Corvi, sindaco di Aprica, Walter Rasketti, presidente del Parco delle Orobie Valteninesi, Alan Vaninetti, presidente BIM, Don Claudio Rossatti, parroco di Aprica, il sacerdote del posto Don Augusto Azzalini. Non è che ci sono solo i rapaci, c'è un bellissimo centro visitatori, con delle sale proiezioni, al fresco, un bel camminamento, si può visitare il bosco incantato, che tutte le sere al tramonto i muschi prendono il colore dell'oro, ed è una cosa che sembra di essere in un incantesimo. E poi c'è sempre ancora anche la visita all'osservatorio ecofaunistico alpino, l'area grandissima, dove abbiamo anche gli ungulati come questi dietro di me, che non hanno paura dell'uomo, e ci abbiamo messo vent'anni a ottenere questi risultati, che ci invidiano quasi tutti, e stiamo esportando quest'idea anche nei parchi e negli altri posti. E' questo l'unico centro in Europa in cui venti camosci e altrettanti stambecchi pascolano a metro dall'uomo, senza che vi sia pericolo alcuno. Frutto di 22 anni di lavoro della famiglia Pedroni, fortemente supportato dall'amministrazione Corvi, sponsor, se così si può dire, anche dell'introduzione degli orsi bui e medo, di cui era presente sabato anche la madrina, Carmen Aiello, di Animals Asia, e Salviamo gli orsi della luna, sodalizi internazionali spesisi per portare i due orsi in salvo ad Aprica. Con questa struttura riusciamo ad avere anche un punto all'interno del parco per i visitatori, che consentirà di ampliare anche le visite durante il corso dell'anno, e soprattutto durante la stagione estiva, che potrà contare quindi su questa nuova offerta, che andrà a completarsi con l'estate prossima, attraverso l'inaugurazione del Museo dell'Uomo della Natura. Realtà che verrà allestita in centro paese, finanziata dall'Unione Europea, e che contribuirà ad arricchire ancora più l'offerta turistica del posto. Questo permette anche una destesionalizzazione per quanto riguarda il contesto turistico, quindi ci sono anche delle economie, ci può essere anche delle economie generate appunto da queste straordinarie bellezze. Lo si fa per i nostri ragazzi, e per tutti quelli che vogliono venire da fuori, e scoprire in una sola mattinata qualcosa di bello, di quanto è meraviglioso il nostro ambiente e la nostra natura. Un'iniziativa che servirà a crescere il valore della biodiversità di questo territorio, un'iniziativa che servirà ad aumentare i visitatori di queste osservatorie faunistiche, visitatori che in questi anni sono andati via via aumentando.